ciao possiamo presentarti poldo è un piccolo fantasma non avere paura niente lenzuoli bianchi o rumore di catene è uno spiritello buono e anche molto simpatico che ti accompagnerà alla scoperta di questo palazzo e dei suoi tesori sai dove ti trovi sei nella casa di gian giacomo poldi pezzoli puoi vedere il suo ritratto proprio all'ingresso sopra la biglietteria era un giovane nobile ed era molto molto ricco gian giacomo era un collezionista a proposito i fantasmi non fanno collezioni ma tu forse sì gommine adesivi figurine francobolli e dove li tieni in una scatola in un cassetto o in giro per la tua camera gian giacomo da giovane aveva una vera passione per le armi e le armature ne aveva talmente tante che ci voleva una stanza apposta e poi gli piacevano i quadri le sculture i tappeti i tessuti antichi i gioielli il vetro la sua casa si era riempita di cose belle e preziose ora la casa è un museo e se vuoi puoi visitarla con poldo grazie a tutti